La componente che ha sostenuto la candidatura di Ignazio Messina ha fatto il pieno delle presidenze delle commissioni consigliari, eletti Sant'Angelo, Bellanca, Bivona, Maniscalco, Venezia e Brucculeri, due vicepresidenze al gruppo Termine. Ieri, ennesima domenica al mare, ma niente parcheggi, raffica di multe tra San Marco e San Giorgio, con 180 contravvenzioni inflitte dalla Polizia Municipale, doppia multa per un'automobilista che aveva occultato la targa della sua auto. Poca acqua dalla diga Gammauta, con cui l'Enel produce energia e sono a rischio 500 ettari di agrumeti tra Burgio, Villafranca e Ribera, lancia l'allarme Franco Matinella, gli fa eco il presidente del consorzio Riberella Pasciuta. Libri presentato sabato sera alla Lega Navale, giocatori d'azzardo di Wilman Cusenza, in una iniziativa organizzata dalla Libreria Mondadori, promossa da Ubic e Multisala Badia Grande, della presentazione del libro di Renato Modica. Maxi Padellata di Gambero Rosa e Resital di Poesie di Vincenzo Licata, questa è l'iniziativa organizzata alla Marina nell'ambito di un'iniziativa del flag, e al proposito di cultura marinara, alla Lega Navale, mostra di pittura di Giacomo Marciante. È stata esercense ieri e stasera in piazza scandaleato il saggio degli allievi della School of the Rock di Alessandro Busateri, un momento di condivisione che con la musica sullo sfondo coinvolge i giovani e le loro famiglie. Benvenuti al nostro telegiornale, in apertura alla politica, la componente politica che con l'apparentamento ha conquistato il primo di maggioranza in Consiglio Comunale, ha fatto il pieno di presidenze delle sei commissioni consigliari permanenti. È avvenuta stamattina l'elezione degli organismi. Due vicepresidenze sono andate alla componente, che fa riferimento all'amministrazione termine, e una al rappresentante della lista Mangiacavallo. Ma andiamo con ordine, vediamo il servizio. Carmela Sant'Angelo, lista onda, capo della prima commissione affari generali e personale, Filippo Bellanca, lista 20-22 della seconda commissione, quella bilancio finanzi e patrimonio, Ignazio Bivona, lista messina della terza commissione lavori pubblici ed urbanistica, Isidoro Maniscalco, lista Sciacca Terme Rinasce della quarta commissione pubblica istruzione, sport, spettacolo, polizia urbana e annona, Nino Venezia, lista insieme per Sciacca della quinta commissione igiene, sanità, solidarietà sociale, ecologia ed ambiente, Raimondo Brucculeri, lista messina della sesta commissione attività produttive e segnatamente turismo, agricoltura, pesca, industria, commercio ed artigianato. È stato completato così oggi dunque l'insediamento delle commissioni permanenti, in seno al Consiglio Comunale di Sciacca, con l'elezione dei vertici, tre i vicepresidenti che non fanno parte della maggioranza numerica, che come è noto si è giudicata al premio di maggioranza, si tratta di Maurizio Blò, della lista Mangiacavallo, che sarà il vicepresidente della prima commissione affari generali, di Alessandro Curreri, lista Fabio Termine, sindaco della terza commissione lavori pubblici ed urbanistica, e di Antonino Certa, partito democratico, che sarà vicepresidente della sesta commissione attività produttive. Calogero Bono di Fratelli d'Italia sarà vicepresidente della seconda commissione bilancio, Luca Labarbera, lista messina della quarta commissione pubblica istruzione, sport e spettacolo, vicepresidente della quinta commissione sanità sarà Clelia Catanzaro, eletta nella lista messina, evidentemente non in tutte le commissioni è stato raggiunto o stato possibile un accordo tra le parti. L'elezione dei vertici delle commissioni pone fine a tutti gli adempimenti previsti nell'ambito dell'insediamento della nuova consigliatura, quella presieduta, come è noto, dall'avvocato Ignazio Messina. Da stamattina è ufficiale la notizia che le elezioni regionali per il presidente della regione e l'Assemblea regionale siciliana per la diciottesima legislatura si svolgeranno il prossimo 25 settembre, in concomitanza con le consultazioni nazionali, così come deciso dal presidente Nello Musumeci, con le dimissioni rassegnate. Lo ha stabilito la giunta regionale, approvando stamane, sul proposto dello stesso Musumeci, la delibera di convocazione dei comizi elettorali. Il decreto di indizione dei comizi e quello di ripartizione dei seggi nei vari collegi saranno emanati dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione entro il giovedì prossimo 11 agosto. Le urne saranno aperte nell'unica giornata di domenica, dalle 7 alle 23. La ripartizione dei 70 seggi dell'Assemblea nell'ambito dei collegi elettorali è elaborata sulla base della popolazione residente nell'isola, secondo l'ultimo censimento disponibile. Nel dettaglio, 62 seggi sono così distribuiti nei collegi provinciali. 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 13 a Catania, 2 ad Enna, 8 a Messina, 16 a Palermo, 4 a Ragusa, 5 a Siracusa e 5 a Trapani. Degli 8 seggi residui, 7 andranno alla lista regionale del candidato presidente vincente, il cosiddetto listino, e 1 al candidato presidente secondo classificato. Cambiamo argomento. Raffica di multe lo scorso fine settimana sciacca nelle località balneari. 180 le multe elevate dalla Polizia Municipale per parcheggio in divieto di sosta. Curioso è il caso di un'automobilista a cui è stata elevata una doppia multa, oltre che per parcheggio selvaggio, anche quella per avere furbescamente coperto la targa posteriore della sua vettura. Sentiamo. Raffica di sanzioni lo scorso fine settimana a Sciacca. Sono 180 le multe elevate dalla Polizia Municipale per parcheggio selvaggio nelle località balneari, letteralmente prese d'assalto da saccenzi, bagnanti e turisti. Per i 180 automobilisti multati sono state elevate sanzioni di 46 euro più 16 euro di spese postali. Per un automobilista è anche scattata la doppia multa per avere furbescamente coperto la targa posteriore della propria vettura, dimenticando di coprire quella anteriore. Un fenomeno, quello del parcheggio in divieto di sosta, che purtroppo si ripete, soprattutto nei fini settimana, creando disagi enormi alla circolazione e anche all'eventuale accesso dei mezzi di soccorso. Riguarda quasi tutte le località balneari saccenzi, senza eccezione alcuna, e soprattutto quelle maggiormente frequentate, a cominciare da Capo San Marco. Un problema che testimonia anche come siano assolutamente insufficienti le aree di sosta pubbliche, quelle private scarseggiano o comunque, da sole, non riescono a contenere l'elevato numero di vetture. E in tanti auspicano un intervento da parte del Comune, sostenendo che l'ente non può limitarsi soltanto a elevare le multe, ma impegnarsi anche a creare le condizioni per mettere a disposizione un maggior numero di aree di parcheggio e sistemare meglio quelli già esistenti. E dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Sciacca di chiudere al traffico anche via Licata, dalle 19 a 1 di notte, monta la protesta dei residenti del Centro Storico. Questa mattina, infatti, numerosi residenti si sarebbero recati presso il comando della Polizia Municipale, sito nel quartiere di San Michele. Da quanto si apprende, residenti negli orari in cui vige la ZTL sarebbero stati impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni con le automobili. Non sarebbero stati attivati ancora i pass, né ci sarebbero più le distinzioni tra varchi A e B, come avveniva durante la stagione estiva precedente. Alcuni residenti questa mattina hanno telefonato alla nostra redazione per chiedere di ripristinare i pass e per chiedere maggiore elasticità e buonsenso nell'applicazione della ZTL. Sarebbero in miglioramento le condizioni del bambino di 5 anni investito da un pullman di linea Montallegro è ricoverato presso l'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il piccolo nel giorno del suo compleanno è stato colpito mentre attraversava la strada lungo il viale della Vittoria. Dopo l'impatto è stato caricato sul mezzo privato e portato di corsa al pronto soccorso di Sciacca. Poi il ricovero in terapia intensiva. Dopo l'attack le sue condizioni sembrano in netto miglioramento e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. I carabinieri della locale stazione stanno cercando di risalire all'esatta dinamica dell'incidente le cui cause non sembrano ancora chiare. È stato già ascoltato pure il conducente del bus. Furto in appartamento ad Alessandria della Rocca. I gnoti hanno rubato ad un'anziana 7.000 euro in contanti che custodiva all'interno di un comodino. Uscita per delle commissioni al suo rientro ha trovato la casa a suo quadro. Sentiamo. Colpo all'interno di un'abitazione del centro storico di Alessandria della Rocca, precisamente in via Margherita. I gnoti, forzando l'ingresso, sono riusciti ad entrare nell'appartamento di una pensionata settantenne di Raffadali, ma residente da anni ad Alessandria della Rocca, e portare via ben 7.000 euro in contanti. I soldi, infatti, erano custoditi all'interno del comodino della camera da letto della donna. I malviventi, dopo aver rovistato ovunque e messo a sacquato la casa, hanno trovato il denaro, portandolo via senza problemi. La donna in quel momento era uscita per delle commissioni e al suo rientro ha ricevuto l'amara sorpresa. Subito sono scattate l'allarme e la relativa denuncia alle forze dell'ordine, ma del o dei ladri nessuna traccia. Sulla vicenda, ovviamente, stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Diverse le ipotesi sul tavolo, compresa quella secondo la quale il o i malviventi sapevano della presenza di quel denaro all'interno dell'abitazione e sono entrati a colpo sicuro rovistando tutto. Sarà molto complicato sia recuperare quanto sottratto, sia risalire all'identità dei ladri. Dal punto di vista dei furti si sta rivelando un'estate difficile. Oltre alle abitazioni, infatti, i malviventi, soprattutto in provincia di Agrigento, stanno prendendo di mira le automobili e quello che vi è contenuto all'interno, borselli, pendrive, cd, radio, portafogli, bancomat e quant'altro, con numerosi casi denunciati a Canicattì, Siculiana, San Leone, Punta Bianca e Bovomarina. Era diventato l'incubo di bengalesi e marocchini. Fra Corso Umberto e Via Garibaldi a Licata, quasi ogni sera, armato di un coltellaccio o del collo di una bottiglia mandata in frantumi, minacciava, percuoteva e si faceva consegnare tutti i soldi che avevano i migranti che incontrava lungo la strada. Fortissimo l'allarme sociale che di fatto a Licata ha iniziato a serpeggiare proprio fra gli extracomunitari. I carabinieri della locale compagnia di Licata hanno iniziato a raccogliere testimonianze, a visionare ed acquisire i filmati di videosorveglianza. Il ladro è stato identificato e arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A finire in cella è stato così un marocchino diciottenne. Il giovane è stato accusato di rapina aggravata, estorsioni e lesioni personali. Numerose le rapine messe a segno e le indagini della Compagnia dei Carabinieri, che è coordinata dal capitano Augusto Petrocchi, hanno permesso di ricostruirne, identificando il presunto autore appunto, almeno una decina. Ci fermiamo per una pausa. Poca acqua dalla diga Gamauta e adesso sono a rischio 500 ettari di colture agrumicole nel comprensorio tra Burgio, Villa Franca e Ribera. A lanciare l'allarme il sindaco di Burgio, Matinella, l'Enel, che gestisce l'acqua della diga per la produzione di energia elettrica, si è resa disponibile a rilasciare diversi migliaia di metri cubi utili per sostenere la produzione agrumicola. Al momento però l'acqua messa a disposizione si è rivelata insufficiente, preoccupato anche il consorzio Arance di Ribera adotte il servizio di Massimo D'Antoni. 500 ettari di produzione agrumicola situati nel comprensorio, compreso tra i territori comunali di Burgio, Villa Franca Sicula e Ribera, rischiano di andare perduti. Sono aree non servite dal consorzio di bonifica e l'irrigazione di quei campi è possibile solo se Enel, che gestisce l'acqua della diga Gamauta, che sbarra il decorso del fiume Sosio per la produzione di energia elettrica, rilascia metri cubi di acqua necessaria a garantire la sopravvivenza delle colture. Nella concessione della regione non era stato previsto alcunché per i terreni agricoli. Sono dovuti intervenire dunque i sindaci in persona per stipulare convenzioni apposite con l'Enel per cercare di fronteggiare quella che rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza economica. Io spero che la prossima volta che si parla di concessione con l'Enel, il prossimo governo regionale, si discute su questo. Io non dico che l'acqua serve per l'energia, soprattutto in questo momento, che c'è una crisi, però di prevedere una quota di acqua che serve per l'agricoltura, serve per il fiume. Il fiume non c'è, muore, non c'è la fauna, non c'è. Perciò io spero che la prossima convenzione, non so se il prossimo anno è scadenza, la regione, chi sarà il prossimo governo, si siede e deve, nel momento in cui viene fatto questo, di mettere su carta una parte di acqua che deve essere rilasciata nel fiume, perché l'acqua nel fiume non c'è, perché l'Enel l'ha messo nei canali ed è sigillata. È completamente sigillata. E le colture rischiano di andare in rovina? Sicuramente sì, perché questo è un momento molto particolare, in questo periodo, luglio-agosto, c'è necessità di acqua per avere poi un ottimo frutto nell'inverno. Al momento il rilascio di acqua per i terreni agricoli è insoddisfacente. Dopo tantissime giornate, settimane, ieri abbiamo firmato la convenzione con l'Enel, dove noi sindaci siamo garanti per quanto riguarda il mancato guadagno dell'Enel, per quanto riguarda la produzione di energia. Io sono pronto a sostenere queste spese per i miei cittadini. Noi avevamo fatto una richiesta, io come Comune di Burgio, ma anche come Villafranco, una richiesta all'autorità di Bacino per aver autorizzato il rilascio dell'acqua. A noi ci hanno riconosciuto 100.000 metri cubi, al Comune di Villafranco a 40.000 metri cubi. Ma il discorso è che l'altro giorno hanno fatto un rilascio di acqua che è sul giro sui 30.000 metri cubi. Quindi lontanissimo? Sì, lontanissimo. Mentre la prima parte, dal ponte di San Carlo a Favara di Burgio, l'acqua con il rilascio è sufficiente, invece nella parte bassa, fino al ponte di Cifota, nella parte bassa del fiume Sosio, all'inizio del fiume Verdura, invece l'acqua non arriva. E questo è un problema, sicuramente dato che nella parte alta, oltre ad essere a prelevare l'acqua, quelli che hanno avuto l'autorizzazione, ci saranno anche sicuramente degli abusive, perciò nella parte alta e nella natura, chi è nella parte alta prende più acqua nella parte bassa. Però io spero che in questi giorni, soprattutto con queste temperature, nel mese di agosto, è sicuramente un momento molto critico per la pianta di arance, per quanto riguarda la produzione. Io spero che possiamo raggiungere anche di avere ancora un altro po' di acqua. Io a fine agosto farò un'altra richiesta per il mese di settembre, perché sicuramente non si sa se piove o meno, però farò un'altra richiesta per avere ancora più acqua. E c'è molta preoccupazione anche da parte del presidente del Consorzio Riberella, a cui sono associati molti produttori delle zone interessate, Giuseppe Pasciuta. Abbiamo sollecitato diverse volte l'istituzione affinché questa questione venisse risolta prontamente. Tra l'altro abbiamo avuto giorni fa un incontro pure con Scilla, che si era prestato per far sì che questa questione venisse risolta. Però purtroppo dai 400.000 richiesti, ora abbiamo praticamente visto che solamente 30.000 vengono rilasciati ogni 15 giorni con tutti i problemi che ci sono. Quindi questo certamente è un problema molto serio e che dobbiamo trovare sicuramente il modo per far sì che l'Enel possa dare l'acqua, perché tra l'altro con questi climi così alti, queste temperature così alte, veramente l'Enel dovrebbe rilasciare l'acqua. E' di questi giorni che in regione Veneto l'Enel, l'Enel di che per la produzione di idroelettrico la sta utilizzando pure per l'agricoltura. Quindi speriamo che... Diciamo che l'Enel per ora non sarebbe obbligata a mettere a disposizione, solo tramite convenzioni questo lo può fare. Questo lo può fare tramite convenzioni. Quello che dice il sindaco è giusto, bisogna prevedere nella prossima... Sarebbe veramente opportuno che le istituzioni sollecitassero l'Enel affinché la realtà produttiva del nostro territorio, che è basata sull'arancia, su questa questione venisse veramente... posta una questione veramente molto ferma, far sì che l'Enel rilasci un po' di acqua per l'agricoltura. E parliamo adesso di strutture turistiche. Il codice identificativo regionale delle strutture ricettive è uno strumento molto importante anche nel nostro territorio. Finalmente ci saranno regole certe per le strutture turistiche. Si combattirà l'abusivismo e ci sarà un positivo ritorno d'immagine per il territorio. E' quanto afferma oggi Ezio Bono, referente territoriale dell'Associazione Agrigento Extra, a proposito di una misura applicata adesso anche in Sicilia, in ritardo rispetto ad altre regioni. Ne parliamo nel servizio. Il CIR, codice identificativo regionale delle strutture ricettive, è uno strumento assai utile ed importante anche nel nostro territorio. Ci saranno regole certe per le strutture turistiche. Si combatterà l'abusivismo e ci sarà un positivo ritorno d'immagine per il territorio. E questo è il commento di Ezio Bono, referente territoriale dell'Associazione Agrigento Extra, che fa capo alla Confcommercio e che rappresenta le strutture ricettive ex alberghiere, a proposito di una misura che il settore aspettava da tempo e che in Sicilia è arrivata in ritardo rispetto alle altre regioni, ma che oggi può finalmente dare, osserva Bono, una visione reale e completa dell'offerta ricettiva cittadina e territoriale, dando il giusto rilievo a chi da anni opera in piena trasparenza e contrastando forme irregolari di ospitalità. Agrigento Extra sta informando gli associati dei dettagli contenuti nel decreto regionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si rivolge a tutte le strutture ricettive, compresi gli agriturismo, gli alberghi diffusi, gli alloggi per uso turistico in affitto per brevi periodi e le case vacanza. Il codice identificativo regionale verrà attribuito dal Sistema di Gestione dei Flussi Turistici, Turistat, istituito con decreto assessoriale del 2014. Le strutture ricettive già esistenti dovranno fare richiesta del codice attraverso l'apposita sezione della piattaforma. Quella di nuova istituzione dovranno inviare a Turistat la copia della segnalazione certificata di inizio attività inviata al Comune e richiedere l'inserimento in anagrafica e il rilascio del codice. Per le casse vacanza il procedimento è simile, sia quelle già esistenti sia le nuove dovranno registrarsi in Turistat, chiedere l'inserimento in anagrafica e il rilascio del CIR. Per i titolari scatta anche l'obbligo di comunicare giornalmente entro 24 ore dall'arrivo o dalla partenza tramite il sistema di gestione dei flussi turistici Turistat i dati relativi agli arrivi e alle presenze a fini statistici. Il CIR dovrà essere ben visibile accanto alla denominazione. L'obbligo riguarda qualsiasi mezzo promozionale e anche le piattaforme ospitate da server che si trovano all'esterno dell'Unione Europea. I titolari delle strutture ricettive dovranno adempiere a quanto disposto dal decreto assessoriale entro 30 giorni dal rilascio del CIR da parte della Regione. Anche per inserire la denominazione CIR negli annunci nelle promozioni su piattaforme online e sui social media c'è un mese di tempo. Chi non adempia rischia una sanzione da 500 a 5.000 euro. Il ripristino dello sportello di riscossione Sicilia e Seppiane nei locali a suo tempo messi a disposizione da Comune di Sciacca a titolo gratuito è quanto chiede oggi in una interrogazione presentata al Sindaco il consigliere comunale Raimondo Bruculeri. Si tratta di un servizio chiuso da marzo 2020 su decisione del direttore di riscossione Sicilia di Grigento e la cui mancanza da due anni crea gravi disagi a cittadini e aziende della città. Bruculeri sollecita il Sindaco e chiedono un incontro urgente con il direttore provinciale per ottenere un'accelera riapertura dello sportello. È stato presentato sabato sera alla Lega Navale nell'ambito della rassegna Libri Sotto le Stelle organizzata dalla libreria Mondadori il libro di Wilman Cusenza dal titolo Giocatori d'Azzardo che racconta la storia di un avvocato antifascista che nell'immediato dopoguerra difende e nasconde un uomo di punta dell'appena sconfitto regime fascista. Un'occasione per parlare con Cusenza ex direttore del Mattino di Napoli e il messaggero di Roma di Attualità. Ne parliamo nel servizio. Tanta gente ha assistito sabato sera alla Lega Navale di Sciacca alla presentazione del libro di Wilman Cusenza dal titolo Giocatori d'Azzardo pubblicato da Mondadori. Un volume che ricostruisce minuziosamente il caso dell'avvocato antifascista bresciano Enzo Paroli che nell'immediato dopoguerra decise di assistere legalmente e di favorire la latitanza di Telesio Interlandi uomo di punta di quel regime fascista che era stato appena sconfitto. Un confronto tra bene e male di cui si stava occupando lo stesso Leonardo Sciaccia poco prima della morte. L'avvocato fa un gesto che Sciaccia giustamente definisce eroico, un eroe civile perché pur pensandola all'opposto di Interlandi pur venendo da una tradizione antifascista ritiene che, come un vero garantista deve fare l'uomo è al centro la dignità dell'uomo è al centro di tutto e quindi il diritto di difesa deve essere garantito e soprattutto la morte deve essere impedita. Questo è il ragionamento dell'avvocato Paroli. La serata di sabato è stata organizzata dalla libreria Mondadore di Sciacca con la collaborazione del Rotary Club. Già direttore di giornali del calibro del messaggero di Roma il mattino di Napoli Vilman Cusenza non si è certamente sottratto alla possibilità di commentare gli ultimi fatti della politica. Penso che la governabilità non è necessariamente così scontata anche nel caso di una vittoria di una coalizione rispetto all'altra perché vedo dei problemi molto seri che derivano non dal pensare in un modo o nell'altro ma dalla natura stessa di questi partiti perché sono dei partiti lacerati al loro interno la Lega è fortissimamente lacerata al suo interno la leadership di Salvini non è per niente salda Forza Italia è un partito che sta perdendo dei pezzi importanti non solo di nomenclatura ma anche sul territorio e quindi penso che ci saranno delle conseguenze da questo punto di vista e quindi questo mi fa pensare che anche la vittoria a centro-destra non sarà così salda e granitica come si vuole pensare Magari avremo bisogno di nuovo di Draghi Io difficilmente penso che Draghi tornerà a Palazzo Chigi Questa infine è l'opinione di Birman Kusenza sull'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina L'Ucraina ha commesso errori clamorosi con Zelensky perché questo nessuno lo dice o meglio dicono soltanto quelli che sono filorussi cioè io però penso che non sono filorussi però penso che Zelensky abbia commesso grandi errori e che alla fine un presidente che non abbia diciamo capito quello che sta succedendo al millimetro ha messo in condizioni di rischio il suo popolo questo penso di Zelensky io sinceramente penso che le sue diciamo apparizioni sulla copertina di Vogue con la moglie non siano esattamente l'espressione di ciò che dovrebbe essere un capo di governo di un paese in guerra bombardato penso che è uno che abbia marciato anche sul ruolo che aveva dopodiché ha fatto un legreggio lavoro perché insomma questi sono i difetti ma ci sono anche i pregi è stato un capopopolo all'altezza della situazione però tutto questo è potuto accadere perché perché i Stati Uniti hanno approfittato di una posizione di debolezza che strutturalmente l'Unione Europea ha sempre avuto sulle questioni appunto della difesa hanno voluto un'equazione tra la Nato e l'Europa che è sbagliata perché una cosa è la Nato e una cosa è l'Europa e schiacciarsi sulla posizione della Nato è un grandissimo errore per l'Europa e il fatto che si sia voluto accelerare sulla Svezia sulla Finlandia dentro la Nato per me è un grandissimo errore in questo contesto è sempre a proposito di libri ieri sera nell'ambito della rassegna una badia di libri promossa dalla libreria Ubic e dalla multisala Badia Grande è stato presentato il lavoro di Renato Modica dal titolo I reclusi di via Cimabue sotto i riflettori il mondo della scuola ad intervistare Modica è stata la docente Alice Titone grazie alle immagini del sito servire sciacca di Nino Porrello che ce ne ha accordato l'utilizzo vi proponiamo un passaggio della presentazione sul tema dell'alternanza scuola-lavoro ascoltiamolo cosa doveva essere secondo me secondo te l'alternanza scuola-lavoro e che cos'è che è veramente sbagliato cos'è che non ha funzionato o secondo te poteva funzionare secondo me io lo dico così e un po' lo nego anche se siamo veramente tanti secondo me non serve però ora faccio il presunto dietro c'è uno studio io quando l'ho sentito l'alternanza scuola-lavoro sono andato a vedere quelli che stanno meglio di noi e meglio di noi stanno i tedeschi perché a volte i tedeschi fanno le cose le fanno bene loro hanno il sistema naturale nelle scuole classiche scientifiche dove ci vuole una buona preparazione di base culturale scuola-lavoro non esiste nelle scuole pratiche manuali professionali hanno il sistema naturale un mese a scuola un mese in azienda pagato coi contributi così io non ho potuto accennare le tragedie che ci sono state perché sono state dei casi fortuiti ma i nostri ragazzi erano lo sbaraglio che alternanza era che io con mia moglie dovevo girare io dovevo andare a pregare che il punto di vista di amici ne ho il bene prego che fa il sito dobbio ma che fa un po' stare pure dai commercialisti ma io ho i clienti c'è la privacy non li può vedere allora che fa questo ragazzo lì o per non parlare me l'ha raccontato una collega che non cito ma adesso si ricorderà quando vanno in un ente pubblico a fare scuola lavoro e il direttore dell'ufficio che voleva fare l'insegnante da piccolo rimette in là e ci fa la elezione ma gliela faccio io a scuola cento volte meglio per non parlare della preparazione alla sicurezza i ragazzi erano morti erano svenuti nemmeno alle mie elezioni erano ridotti così erano svenuti proprio una cosa terrificante che fa l'attenanza al liceo classico siamo andati a fare gli esami c'è mia moglie di stimola perché so che a me non mi credete siamo andati a fare gli esami a San Stefano di Piscuina in un professionale sanitario e accanto c'era l'ospedale a Cardi l'ospedale privato che però spendiamo una volta una lancia fuori dei privati che funziona i ragazzi hanno fatto la scuola lavoro c'è l'ospedale a Cardi no sono infermieri l'hanno fatto alla Valle dei Tempi studio archeologico del nuovo teatro di Agrigento ci si mette e fa le bocce ma tutti ormai restiamo c'è mai che a tendenza a scuola lavorare l'infermiere alla Valle dei Tempi a me lo portano là Padellata di Gambero Rose di Sciacca poesie di Vincenzo Licata a cura dell'attore Saccenza e Pippo D'Antoni sabato scorso alla Marina nell'ambito di un'iniziativa promossa dal FLAG è realizzata in collaborazione con le cooperative di Pesca sentiamo il quartiere della Marina ha vissuto sabato scorso un momento di convivialità assai caro a questa antica zona della città una mega padellata di Gambero e Rosa di Sciacca con annessa degustazione si è svolta nei pressi della tettoia di riparo delle reti nella zona portuale opportunamente ripulita per l'occasione non solo Gambero ma anche degustazione di pane punzato ed altri prodotti tipici della città la padellata è uno dei momenti della tradizione legata alla Sagra del Mare festa di San Pietro che quest'anno come noto non si è svolta a causa della protesta a fine giugno della marineria contro il caro gasolio ciò nonostante il quartiere sabato scorso ha avuto la possibilità di vivere uno dei momenti della festa grazie al Festival del Mare del Gusto l'evento che fino al prossimo mese di ottobre coinvolgerà quattro flag siciliani tra cui il Sode Lazzurro tra Sedinunte Sciacca e Vigata quattro zone costiere 39 comuni per un totale di 41 eventi che hanno preso il via lo scorso giugno durante la serata realizzata in collaborazione con le cooperative di Pesca e cui ha preso parte il sindaco di Sciacca Fabio Termi nell'amministrazione comunale c'è stata anche la lettura di opere del poeta Vincenzo Licata a cura dell'attore Pippo D'Antoni si è svolta ieri sera in piazza Scandaliato la prima delle due serate di spettacolo e musica dal vivo nell'ambito del saggio della School of Rock di Alessandro Pusateri un momento di festa per ragazzi e famiglie vediamo musica dal vivo e giovani i protagonisti ieri sera e stasera in piazza Scandaliato nell'ambito del saggio di fine anno organizzato dalla School of Rock di Alessandro Pusateri patrocinato dal comune di Sciacca ad esibirsi i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola con una bella dimostrazione di voglia di mettersi in gioco ma anche di vivere la musica come espressione migliore di gioia collettiva a pensarla così anche il sindaco Fabio Termini all'assessore alla cultura e alle politiche giovanili Salvatore Mannino quindi siamo contenti di aver dato l'opportunità di farlo anche in piazza Angelo Scandaliato perché credo che meritasse un appuntamento del genere e siamo contenti di vedere la piazza viva dopo anni di stenti dopo anni chiaramente legati alla pandemia siamo contenti che finalmente si possa vivere un po' le nostre strade e soprattutto le nostre piazze quindi siamo molto contenti e vi facciamo un in bocca al lupo per il resto della serata grazie Crepi e allora quindi possiamo dire che in questa post pandemia ci stiamo riprendendo il nostro il nostro spazio sul piano culturale musicale sì certo possiamo dirlo bene è bello vedere questa veramente piazza grenita ma soprattutto è bello vedere anche questi ragazzi che si esibiscono con grande passione attenzione voglia di fare bene ieri la prima serata stasera nuovo show in piazza scandaliato con tanti altri momenti musicali e di condivisione da parte dei ragazzi e adesso fotografie all'interno della rassegna del circolo di cultura frammenti d'arte verrà inaugurata questa sera alle 19.30 nel vicolo De Stefani una collettiva fotografica sulla Madonna del Soccorso dal titolo Mater e Salus che sarà visitabile fino a domenica 21 agosto ad esporre saranno i fotografi saccensi in attività un modo per valorizzare l'arte fotografica e il lavoro che da anni attraverso i propri studi fotografici tali fotografi svolgono si tratta del nostro personale omaggio alla patrona di Sciacca spiega il responsabile culturale del circolo a Cursio Cortese il quale comunica che frammenti d'arte giunge al giro di Boa e dopo l'inaugurazione della mostra il cartellone delle iniziative culturali riprenderà il 20 di agosto a Montevago entra nel vivo il programma delle iniziative estive messe a punto dal comune i ruderi del sisma e del 68 si trasformano in una incantevole location per eventi e spettacoli calati nel programma vediamo il servizio i ruderi del terremoto del 1968 diventano una incantevole location per gli eventi dell'estate entra nel vivo l'estate montevagese un programma messo a punto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita Larocca Ruvolo questa sera devo dire con i festeggiamenti per San Domenico si aprono un po' l'estate montevagese cominciamo con una serata nella vecchia piazza Matrice ed è una cosa suggestiva c'è un calendario abbastanza diciamo folto di eventi e devo dire che lo scopo dell'amministrazione mia è quello di rivalutare sempre più la vecchia Montevago il borgo antico come lo abbiamo chiamato ricordo quella del 10 agosto Calici sotto le stelle proprio per cercare di valorizzare sempre più questo posto che di suo già è molto suggestivo e ricorda e ci riporta indietro nei momenti più belli che Montevago ha vissuto prima del terremoto a questo si aggiunge un calendario che è dato dai venti nella Montevago attuale e quindi invito tutti a partecipare a questi momenti perché sono momenti non solo di aggregazione per la comunità ma sono anche momenti belli per godere dei posti magnifici che Montevago ha una settimana dedicata alla cultura e all'informazione si terrà a Bivona la prima edizione del festival Sicania dedicato ai libri e a sapere in tutte le sue forme dal 28 agosto al 3 settembre 15 incontri una mostra fotografica e più di 30 diversi relatori animeranno i luoghi della cultura di Bivona da Palazzo Marchese Greco al nuovo teatro comunale all'aperto e al Parco Artistico della Pace il festival verrà aperto dall'inaugurazione dell'esposizione della mostra nel cuore della terra del fotografo Alfredo D'Amato poi proseguirà con dibattiti sulla rigenerazione dei borghi e presentazioni di libri dedicati alla Sicilia con scrittori e giornalisti tra gli altri racconteranno delle loro opere Gaetano Savatteri Marco Bova Alessandro Cacciato Gero Tedesco Michele Rondelli Salvo Toscano Mari Lisa della Monica Beniamino Biondi e tanti altri l'evento patrocinato dal comune è stato ideato dal sindaco Milco Cinà e dall'assessore alla cultura Angela Cannizzaro e vede la collaborazione delle associazioni del territorio siamo contenti di aver inserito nella nostra estate bivonese una intera settimana dedicata alla cultura hanno detto il sindaco e l'assessore da tempo era nostro intento creare un festival dei sicani che raccogliesse le eccellenze del territorio e adesso vediamo qual è il libro che vi proponiamo da leggere America Impero del Male o Patria delle Libertà una nazione creatrice di miti e valori o un paese in declino e diviso al suo interno capire l'America è una sfida bisogna avere radici profonde in questa nazione pagarci le tasse averci mandato i figli a scuola usarne la sanità aver fatto il giurato in un processo averci comprato casa e creato una società per superare la barriera dei luoghi comuni le sorprese sono tante quante le Americhe al plurale e tutte le loro comunità etniche Federico Rampini che in America ha vissuto per quasi un quarto di secolo firma un ritratto illuminante degli Stati Uniti che enuclea i grandi e i piccoli problemi del paese di ogni differenza abissale con l'Europa indico origini e ragioni dalla politica all'economia dalla cultura alla società dalla quotidianità alla genesi del DNA nazionale l'autore compie uno slalom fra le contraddizioni un'operazione di pulizia dai preconcetti e ci regala una guida di viaggio in senso letterale perché si può comprendere l'America solo vivendola e guardando dietro le apparenze per intuire magari dove andrà a finire America viaggio alla riscoperta di un paese di Federico Rampini edito Solferino e a proposito di cultura in corso di svolgimento alla Lega Nagavale di Sciacca una mostra di pittura dell'artista Saccenze Giacomo Marciante il tema è quello del mare ascoltiamo l'artista intervistato da Massimo D'Antoni da quanto tempo dipinge? Allora da 23 anni 23-24 anni che dipingo proprio la pittura d'Ode questa mostra qual è il filo conduttore il mare? Allora il filo conduttore il mare chiaramente il luogo si addice veramente grazie al Presidente che mi ha dato questa opportunità chiaramente quello che voglio dimostrare non è solo la bellezza che il mare tramanda con i suoi colori con le sue trasparenze ma chiaramente pure la realtà che noi vediamo si può notare infatti quello che ovviamente si vede purtroppo l'ottamazione migrazione resti che ci lasciano un pochettino quindi c'è anche un messaggio sociale sì chiaramente chi fa arte deve dare un messaggio perché se no questa mostra rimarrà disponibile fino a quando? fino sicuro fino a giovedì fino a giovedì prossimo quindi chi volesse venire a visitarla qui alla Lega Navare la statua della Madonna Stella del Mare dopo anni di ritardo dovuto al restauro e pandemia torna in mare è avvenuto ieri nelle acque di Sacca Grande grazie all'intervento dei sommozzatori del club Sub Secca Grande diretto da Mimmo Macaluso e degli amici del mare presieduto da Gino Danna a benedire l'immersione a qualche centinaio di metri dalla spiaggia della statua di resina bianca della Madonna su una barca Don Antonio Nuara dieci sommozzatori tra gli applausi sono scesi sott'acqua per fissare la statua ad un abbasamento in cemento che era stato realizzato nel 1993 quando era stata posa per la prima volta la Madonna abbiamo rimosso la statua dice Macaluso per una sua pulizia ma circa cinque anni fa abbiamo aspettato il momento migliore per riporla al suo posto originario nella serata del 14 agosto realizzeremo la processione in mare con un corteo di barche lungo tutto il litorale di Secca Grande appuntamenti con l'ambiente a Sciacca e Menfi per il WWF Sicilia Area Mediterranea i volontari con il supporto di diverse associazioni sono stati protagonisti di diversa iniziativa presso le spiagge di Renella Foggia Tonnara e Lido Fiori obiettivo sensibilizzare contro l'utilizzo di plastiche in favore della raccolta differenziata e per evitare che la sabbia delle nostre spiagge venga usata come fosse un posacenere ne parliamo nel servizio fine settimana ricco di appuntamenti ambientali per il WWF Sicilia Area Mediterranea presieduto da Giuseppe Mazzotta tre iniziative si sono svolte a Sciacca rispettivamente presso le spiagge di Renella Foggia e Tonnara mentre un'altra si è tenuta a Lido Fiori a Menfi a Renella si è avuto il cosiddetto Ciccadei i volontari del WWF di Sciacca Full Immersion dell'Educamp del CONI e del Comitato di Quartiere hanno setacciato e pulito i fondali della zona mentre i ragazzi dell'associazione Crescere Insieme hanno decorato le ceramiche che saranno collocate lungo la spiaggia al fine di consentire agli utenti di gettare cicche e rifiuti differenziati negli appositi contenitori WWF Sicilia Area Mediterranea che poi si è spostato alla Foggia No Plastic Beach per proseguire nella caccia alla plastica e nella pulizia dell'arenile insieme a Marevivo Plastic Free Ondus e al locale Comitato è proseguita insomma la sensibilizzazione contro l'utilizzo smodato di plastiche e verso il rispetto dell'ambiente marino e dell'arenile questa mattina altro appuntamento stavolta presso la spiaggia della Tonnara a tutela della fauna marina e alla presenza del biologo Francesco Vella intanto il WWF ha siglato un protocollo d'intesa con il comune di Sciacca per il tramite dell'assessore Francesco Di Mino per la tutela delle spiagge e in particolar modo delle tartarughe Caretta Caretta e dei loro nidi nel medesimo protocollo d'intesa c'è anche la richiesta per l'installazione presso la spiaggia di Renella dei portaceneri artistici decorati dai ragazzi di Crescere Insieme infine ma non per ultimo passeggiata ecologica anche a Lido Fiori a Menfi ad accogliere volontari c'erano Antonella Graffeo e Franco Miravello che hanno messo in piedi la struttura dell'evento con loro Giuseppe Mazzotta e Domenico Macaluso rispettivamente presidente e responsabile scientifico sezione mare del WWF Sicilia area mediterranea hanno accompagnato il pubblico con curiosi aneddoti e racconti riguardanti il perché la natura deve essere protetta si è parlato del fratino di vegetazione dunale di emergenza climatica di erosione costiera di biodiversità e dell'importanza della tutela di questo fragile ecosistema i presenti si sono poi fermati al Cipollazzo sul cui a Renile una tartaruga caretta caretta ha recentemente deposto le sue uova e se ne attende la schiusa verso fine agosto qui i bambini sono stati nominati custodi delle tartarughe marine suscitando la gioia e l'orgoglio di sentirsi parte di un sistema organizzativo che mette al primo punto l'armonia con la natura sulla via del ritorno sono state raccolte molte plastiche che sporcavano la spiaggia gli eventi di Sciacca infine sono stati coordinati anche dal referente locale Fabio Mazzotta Ciccami qui porta questa denominazione all'iniziativa che si svolgerà sabato prossimo 13 agosto in località Lidofiore a Menfi con un gruppo di volontari afferma il presidente di Contrada Lidofiori Ivan Puccia Barreca scenderanno in piazza scusate scenderemo in spiaggia percorreremo il nostro litorale e omaggeremo gli ospiti della spiaggia degli esclusivi conetti posacenere che potranno portare con loro come souvenir e che dovranno sempre utilizzare nasce così il primo evento Ciccami qui con il supporto delle attività commerciali presenti in Contrada e dei residenti l'obiettivo è ancora una volta quello di sensibilizzare la gente a prendersi cura dei luoghi che abitano e che frequentano il concetto ovviamente che si vuole diffondere è semplice lascia pulito e trovi pulito si chiude questa edizione del nostro telegiornale ancora una volta grazie per essere stati con noi appuntamento alle prossime grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti